Eccoci qua, nuova settimana, nuovo appuntamento con Mago Della. Cosa ci sarà oggi nella nostra valigetta? No, uno dei primi giochi che ho imparato con le spugnette. Il gioco dei coniglietti. Beh, è un po' strano questo gioco perché, sapete, i coniglietti si possono volere bene, si danno tanti bacini e poi vanno nella rotana. Cosa succede quando vai nella tana? Che si fanno le coccole. Ed è incredibile che con un soffio magico... No, da due coniglietti sono usciti tantissimi mini coniglietti. Questo gioco mi piaceva tantissimo farlo e la prima volta che l'ho eseguito era il mio primo spettacolo e l'ho fatto succedere, accadere tra le mani di una signora. E lei ha preso paura perché ha visto esplodere tantissimi coniglietti piccolini. È stato bellissimo perché tutte le persone si sono messe a ridere. Che dire, appuntamento alla prossima settimana con le nostre magie e la nostra valigetta. E sempre It's a Magic!